E' un'area che si riflette sul vescico labiliare e la sentite molto dura come fosse marmo, quando la persona ha le anche parecchie chiuse. Perché? Proprio perché per il percorso di vescico labiliare e correre lungo. E quello che dobbiamo fare è quello di farlo diventare morbido come le caramelle gommose. E quindi durante il trattamento shiatsu facciamo anche le caramelle gommose. Per esempio questo può anche essere molto dolore e anche utile per le persone che durante la notte bruciano. V Lauretina? By the way, l'elettronics smog, toxicity, grinding of the teeth is one of the things that go on through with people. Come, come pensare, quanto riguarda il buxismo, è qualcosa che si verifica per le persone No, 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 è solo la right hand, la left hand sulla sinistra, quindi guardiamo che passi con la sinistra stava. Solo sulla mano destra, solo sulla sinistra stava. È solo sulla mano destra. Ok. Grazie a tutti.